Lei sperava di trovare impreparato ma casca male perché domani invece abbiamo un provvedimento importante contro il governo perché il governo ha deciso di impugnare la legge sul turismo dove la regione Lombardia ha messo un elemento che il governo sta stretto che i soldi del turismo non vanno a quegli alberghi che fanno accoglienza clandestinità quindi i soldi da Lombardia non vanno per gli albergatori che oggi decidono di fare accoglienza clandestinità la cosa buona che fa domani